Il provvedimento è stato adottato solo in via Garibaldi ed in corso Vittorio Emanuele per motivi di sicurezza visto che i monopattini e le bici elettriche possono raggiungere una certa velocità mettendo quindi a rischio la sicurezza dei pedoni. Il divieto sta però suscitando non poche polemiche in un periodo in cui in tutto il paese si sta incentivando l'uso della bicicletta attraverso bonus per l'acquisto delle bike sia quelle tradizionali che a pedalata assistita. Acevolazioni che riguardano anche i monopattini elettrici. Ci sono poi comuni italiani che stanno facendo scattare incentivi per andare a lavoro in bici. Si punta insomma alla mobilità sostenibile che sembra davvero calzare a pennello in una città come Trapani che di fatto potrebbe essere una grande pista ciclabile tutta in piano e con il bel tempo per la maggior parte dell'anno. Il centro storico poi così come il resto del centro urbano si presta benissimo alle passeggiate in bici ed in chiave turistica si potrebbero sviluppare le cicloescursioni visto che a un tiro di schioppo dalla città ci sono le saline ed itinerari tra campagne e litorale da poter sviluppare. Ma a fronte di questo grande potenziale nelle arterie principali e maggiormente trafficate bisogna fare i conti con la mancanza di piste ciclabili per poter pedalare in sicurezza. E quando ci sono come nel caso di quella della via del sale che si interrompe poco prima di Nubia versano in condizioni di abbandono o con la segnaletica completamente sbiadita come nel percorso ciclabile nel territorio ricino o come quella del lungomare Dante Alighieri che dopo aver costeggiato la spiaggia di San Giuliano a un certo punto si interrompe costringendo i ciclisti a continuare sulla carreggiata con tutti i rischi che ne conseguono considerato che la guida di certi trapanesi è tutt'altro che incoraggiante per andare in bici. Insomma in tempi in cui si parla sempre più di mobilità sostenibile a Trapani l'impressione è di essere ancora molto prima dell'anno zero. Per tutto un insieme di fattori mancano le piste ciclabili e quelle poche che ci sono non si presentano bene. In alcuni casi non si presentano proprio visto che sono quasi del tutto sbiadite o piene di erbacce e rifiuti. C'è poi poca sensibilità verso l'uso della bicicletta anche se in questi anni i cittadini che vanno in sella sono andati aumentando sempre più. Ma c'è sempre da fare conti con i comportamenti di chi sta alla guida sia delle auto che delle stesse biciclette perché se in via Garibaldi e Corso Vittorio sono scattati i divieti per monopattini e bice elettriche a pedalata assistita questo è riconducibile alla condotta di alcuni cittadini che magari non hanno stato buon senso stando in sella scorazzando a una certa velocità e mettendo a rischio l'incolumità dei pedoni. Insomma se la bicicletta offre davvero tanti vantaggi in termini di ambiente, risparmio, comodità e benessere dall'altro è sempre il modo in cui si utilizza il mezzo che fa davvero la differenza. Serve buon senso dunque un po' più di rispetto per gli altri sia al volante che pedalando e eviterebbe di fare scattare divieti che non piacciono a nessuno. A maggior ragione se vanno a limitare l'uso di un mezzo che rappresenta la libertà di poter andare dove si vuole e che potrebbe davvero fare la differenza in una città come Trapani dove l'uso della bicicletta è assolutamente da incentivare ma prima di ogni cosa vengono i giusti comportamenti da parte di tutti. Grazie. 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 Grazie.